Ciao a tutti, abbiamo ottenuto un'altra grande vittoria in Emilia-Romagna. La Regione, dopo le nostre pressanti richieste, interrogazioni e ben due esposti alla Corte dei Conti, ha dovuto fare marci indietro sulla scandalosa norma che permetteva di pagare come dirigenti e con stipendi stellari i collaboratori del Presidente Bonaccini e dei suoi assessori, anche se non erano in possesso di una laurea, come stabilisce la legge. Siamo riusciti infatti a far approvare un nostro emendamento che ristabilisce il sacrosanto principio della meritocrazia all'interno della Regione. Dalla prossima legislatura, quindi, per accedere alla categoria D e a quella dei dirigenti con relativo stipendio, il personale nominato dalla Giunta dovrà necessariamente essere laureato. In questo modo abbiamo messo fine a una situazione scandalosa che durava da fin troppo tempo, voluta dal Presidente Bonaccini e avvallata dal PD che di fatto aveva trasformato la Regione in una propria azienda privata, arrogandosi il diritto di poter decidere gli stipendi dei suoi collaboratori a prescindere dai titoli di studio posseduti e facendosi beffa di tutti gli altri dipendenti regionali che invece sono soggetti a regole ben più rigide. Abbiamo messo fine quindi alle scorciatoie e ai favori agli amici degli amici.